Luca, io ho spesso dei cali di zuccheri e il medico mi ha consigliato di, ogni volta che mi succede, prendere una bustina di zucchero o bere del succo o qualcosa di dolce. Io sono Luca Veronese, esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento e oggi in questo video parliamo proprio di ipoglicemia reattiva. Allora rispondo a questa domanda che mi è stata fatta su Instagram. Prima cosa, licenzia il tuo medico. Licenzialo. Cambialo. Cerchiamo di capire che cosa, come mai succede questa ipoglicemia reattiva, so che a tante di voi capita e quello che si pensa, nell'immaginario collettivo, è che sia una, ho bisogno di tanti zuccheri. Falso. E cerchiamo di capire prima di tutto cosa accade, no? Quando noi facciamo un pasto che è un pasto normale dove la persona è sana, stiamo parlando di una persona che non ha nessun problema, non ha diabete, nessun problema. E succede quella che è la curva glicemica, che parte, si suppone, più o meno da 82, 85, più o meno. Fa una curva che non supera mai i 130, mai. Questo lo trovate nei libri di medicina, lo trovate dove volete, cercate, lo trovate. In un corpo sano non deve, la glicemia non deve mai andare oltre i 130 e mai deve andare sotto i 70. Perché? Perché quando va sotto i 70 è pericoloso. La persona può sentirsi male, può causare un incidente, quindi è una situazione, sì, che non deve capitare. E in quel momento può salvarti prendere una bustina di zucchero. Però che ti venga dato il consiglio, che ogni volta che ti capita tu assumi una bustina di zucchero, tu vai a creare un circolo molto vizioso, che ti porterà a resistenza all'insulina, ti porterà, potrebbe portarti al diabete, ti porterà probabilmente al sovrappeso dell'alimentazione che stai facendo. Ma anche se sei magra comunque ti crea infiammazione. Insomma, è una situazione che non deve succedere. Ti disturba il sonno, ti altera il sistema nervoso, ti elimina il magnesio, ti rovina il metabolismo, tutta una serie di cose. Ti abbassa l'energia e così via. Una persona con un buon metabolismo è una persona che ha livelli di energia costanti, che dorme bene, che non gli capita ipoglicemia e non gli capita iperglicemia. Ora, che cosa succede quando, ipotizziamo perché ho messo qua la pasta, la più amata dagli italiani, che mangiano pasta. La pasta, che poi è stata fatta integrale, ma in realtà non cambia assolutamente niente, è ben ben carica di carboidrati. Questa ne ha 70 su 100 e viene fatto passare per normalità. In realtà, questo è un cibo, in natura, molto difficile trovare un cibo che abbia dentro 70 o più grammi di carboidrati raffinati. Questo alimento è raffinato, è industriale, è lavorato e è ben carico. Questi carboidrati si trasformeranno velocissimamente in zuccheri, nel sangue. Quando succede questo, per esempio, mangio il mio piatto di pasta, la glicemia fa così, va su, probabilmente va su, può darsi che sia di più o anche no, questo dipende da quanti anni lo stai facendo. Il corpo rilascia una grande quantità di insulina, una grande quantità, che mi fa questo, boom. Mi abbassa tanto, tanto gli zuccheri, perché ogni volta che, appunto, a volte i 130 è una situazione di allarme per il corpo. E quindi mi dà una grande produzione di insulina, che me lo ributta giù. Ecco perché dopo mezz'ora che ho mangiato pasta, dopo un'ora che ho mangiato pasta, molte volte ho fame, ho assolutamente fame. Questa cosa viene causata proprio dall'insulina, ma anche dagli zuccheri che sono stati mandati giù troppo repentinamente. E quando ho gli zuccheri qui, il cervello mi dà immagini di carboidrati, zuccheri, perché realmente si crea una necessità. Ma questo è un circolo vizioso. E non lo risolvi prendendo una bustina di zucchero. Certo, nel momento sì, ti salvi dal pericolo, però non puoi andare avanti in questo ciclo. Quindi, soluzione. Soluzione. Perché parlare dei problemi va bene, però se non parliamo delle soluzioni è come parlare di niente. Però i problemi sono importanti da capire, perché capendo bene il problema possiamo dare una soluzione. Nel tuo caso non è vero che hai bisogno di più zuccheri. In realtà il tuo corpo sta gestendo male gli zuccheri, un eccesso di zuccheri. Quindi ci sono due cose importanti che ti possono aiutare. La prima, ovviamente eliminare tutti gli alimenti raffinati. Non è vero carboidrati complessi, non complessi. Tutti. Tutti quei cibi che hanno un eccesso di carboidrati, che hanno un eccesso di zuccheri, che sono raffinati, i cereali, non ti aiuteranno per niente. E quindi la prima soluzione è la libertà alimentare. La libertà alimentare. Che apporta sicuramente meno zuccheri, e quindi ti sentirai subito meglio. Ti sentirai più sazia, perché apporta molti più nutrienti. E questa è la prima soluzione. Che ti darà una curva glicemica più soft. La seconda, perché può essere che non mi stai credendo, ti prendi un glucometro, che è uno strumento di libera vendita, lo trovi in farmacia, lo trovi online, si trova anche a 20 euro, uno vale l'altro, questo non sbaglia. E, se non credi a me, ti mangi il tuo piatto di pasta, vedi magari cosa succede dopo due ore. Allora, prendi la glicemia prima, che deve essere 82, 85, 88, 90, ideale meno di 100, super ideale meno di 85, e la misuri due ore dopo. E deve essere più o meno uguale a qua. Se però vuoi fare per cui... Allora, possono succedere due cose. O che dopo due ore ce l'hai ancora qua in cima, quindi ce l'hai oltre i 130, persone capita di avercela ancora a 190, 220, e così via. Ma se non è tornata più o meno a questo valore, non bene. E, per curiosità, puoi anche vedere dopo un'ora cosa succede, nel picco. Perché prima che ci sia questo abbassamento, deve esserci stato un eccesso. E quindi fai dei test, e vedi quali alimenti ti fanno bene, e quali alimenti non ti stanno facendo bene. Quindi questo è il secondo. Il secondo è un glucometro. Terzo, terzo consiglio, e importantissimo, ad oggi c'è una carenza mondiale di magnesio. Perché? Perché c'è una iperglicemia costante. Le persone mangiano cibi raffinati, tutto il mondo mangia carboidrati in eccesso, mangiano zuccheri. Questo mi elimina magnesio. Mi elimina magnesio, e mi trovo carente di magnesio, e il magnesio, però, al corpo, serve per gestire gli zuccheri. Per la gestione degli zuccheri, per il metabolismo, il magnesio è importantissimo. Quindi, se tu applichi la libertà alimentare, prendi un glucometro e fai dei test con gli alimenti da eliminare, e sarà solo un test, perché con la libertà alimentare si fa già piazza pulita. E terzo, assumi, noi per esempio abbiamo magnesio, Noi abbiamo Metabolic Mag, che è un magnesio ben assorbibile, è in polvere, in modo che uno possa crearsi la sua dose specifica, e contiene anche altri minerali, come lo zinco, come il potassio, perché questa sinergia fa sì che sia ben assorbibile. È preso per qualche mese, in realtà andrebbe preso quasi sempre, perché con le forme di stress ne aumenta il consumo, quindi abbiamo un grande fabbisogno di magnesio, che ad oggi è carente. Ok, spero che questo video ti sia stato d'aiuto, ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like, condividerlo con persone che possono avere, che possono aver avuto questo problema, in modo che possano risolverlo. Se hai qualche domanda specifica e vuoi che la tratti qui nel canale, lascia una domanda sotto al video, che prima o poi verrà risposta, e noi ci vediamo nel prossimo episodio.